Salve a tutti i giocatori benvenuti in un nostro nuovo video, oggi andremo a parlare di una cartina che per gli amanti del GOAT è una carta abbastanza conosciuta anche perchè è stata letteralmente aveva un effetto troppo sgravo per tutti gli altri preparatevi per una carta che a tempi poteva essere una delle cose più senza senso mai fatte prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi, non sono le primi esempi aggiornati con il mondo di Yuke non sono, grazie mille parliamo del boss monster dello structure acqua, il primo uscito acqua ovvero se andrà con l'orneo Dedalus che cosa fa questa carta? ovviamente può essere evocata specialmente soltanto tributando Levi, Dragone e Dedalo sul terreno quindi tributavi lui e ti evocavi questo qui quindi prima dovevi passare da Levi a Dragone e Dedalo e poi evocare lui possiamo mandare un Umi e controlliamo al cimitero per mandare tutte le carte di entrambi i giocatori e nella mano, quindi terreno in mano al cimitero eccetto ovviamente lei quindi faceva vantaggio carte immenso perchè toglievi mano e terreno così non sembra neanche troppo sgrava perchè comunque dovevi evocare primo un mostro di livello 7, tributare 2 e via però inizialmente uscì con manda Umi sul tuo terreno al cimitero per mandare tutte le carte nelle mani nel terreno di entrambi i giocatori al cimitero eccetto questa carta quindi non aveva la limitazione dell'evocazione, tu potevi farla anche normal bastava avere anche il pesce quello che ti faceva 2 tributi ed evocarlo un madre grizzly che veniva rotto in battaglia e che ti calava un altro mostro e uno special dello spirito dell'acqua per evocare lui e vincere perchè faceva praticamente da Emperor Dragon da Chaos Emperor Dragon quindi entrava, ovviamente entrava, mandava tutto via pagavi mi pare mille, faceva il panico anche lui gli hanno dato un'errata lei appena uscita l'hanno seccata immediatamente perchè era leggerissimamente troppo forte perchè effettivamente cioè tu lo... pensate adesso che ci sono i modi per evocarlo tranquillamente se non avessi avuto l'errata i modi per evocarlo tranquillamente special quanti potevano essere pensate adesso il panico che avrebbe fatto a parte che è una carta secondo me magnifica l'artwork è magnifica poi ovviamente c'è stata l'errata post structure quindi cioè post structure appena uscito lo structure dopo 10 secondi gli hanno dato l'errata mentre stavano ancora stampando le carte e stavano correggendo il testo quindi con la vecchia dicitura non può essere evocata normalmente e tramite evocazione normale deve essere prima... non può essere evocata tramite evocazione speciale se non tributando e poi vabbè quella con il testo nuovo quindi tributi Levi Dragon e Dead lo cali lui ovviamente l'evocazione era special con Levi Dragon e Dead però poterlo evocare normal tranquillamente e poi fare tabula rasa era qualcosa di veramente troppo esagerato lo vorrei tanto rigiocare detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate se conoscevate l'errata, conoscevate questa carta e tutto il resto noi come sempre ci vediamo in un prossimo video e un saluto a tutti è un saluto a tutti e poi la faccio vedere Grazie.